Un tuffo nel passato a bel passo attraverso le memorie tramandate di generazione in generazione dalla comunità e alcuni brani rintracciati nelle cronache del tempo che aiutano a ricostruire il calamitoso avvenimento del 1669, la terribile eruzione dell'11 e 12 marzo che coprì l'antica terra di Malpasso, Montpileri e le zone circostanti fino ad arrivare a Catania. I giorni e i luoghi della memoria sono stati ieri sera al centro della conferenza organizzata dalla Fondazione Carri di Santa Lucia e dall'assessorato alla cultura del comune di Belpasso guidato da Barbara Laudani. Nel corso del partecipato incontro, curato da Gianni De Luca, presidente della Fondazione Nunzio Sambataro, sono stati ripercorsi quei difficili momenti della comunità di Malpasso. Attraverso una serie di slide con diverse mappe è stato possibile rendersi conto dell'antica situazione dei luoghi prima e dopo la terribile eruzione passando per la costruzione di Fenicia Moncada per arrivare all'attuale Belpasso dopo il terremoto del 1693. Particolare risalto è stato dato alla grande fede delle comunità del tempo che hanno sempre invocato la protezione della Vergine Siracusana, patrona delle genti di Malpasso sin dal 1636 e ai luoghi sacri che ancora oggi raccontano il rapporto di timore e fede delle genti dell'Etna con il vulcano, come Monpileri nei pressi del quale si trovano oggi gli unici resti di un'antica chiesa della misericordia di Malpasso. Il percorso rievocativo proposto dalla Fondazione proseguirà infatti domenica con il cammino penitenziale di fede e di memoria da Monpileri fino ai resti della vicina chiesa di Malpasso con le reliquie di Santa Lucia portate dal parroco della chiesa madre della cittadina Ettennea.